Ben tornati sul canale amici miei, oggi voglio parlarvi del film The Apprentice alle origini di Trump che possiamo trovare nelle sale italiane dal 17 ottobre dopo essere stato presentato in concorso per la Palma d'Oro alla 77esima edizione del Festival di Cannes. Dietro la macchina da presa Ali Abasi, regista naturalizzato danese ma di origini iraniane che già mi aveva sorpreso non poco con Holy Spider di cui potreste trovare il video su questo canale. Questa volta racconta le origini di Trump da quando era un semplice imprenditore un po' ingenuo, timido, che cercava di allontanarsi dalla figura del padre che lo vessava continuamente, non credeva in lui e quindi da lì a poco si ritroverà a conoscere uno dei più spietati avvocati di New York, vale a dire Roy Cohn, famoso anche per aver mandato sulla sedia elettrica i Rosenberg, quindi una persona che insegnerà tutti i suoi segreti a Donald Trump, tant'è che ad un certo punto l'allievo supererà il maestro in quanto a cattiveria, cinismo e in quanto anche ad approfittarsene degli altri, dei più deboli. Ora, ero molto curioso di vedere questo film interpretato da Sebastian Stan e da Jeremy Strong. Jeremy Strong interpreta Roy Cohn, mentre il nostro soldato d'inverno dell'MCU, ma che è bravissimo anche in altri ruoli, pensiamo anche a Pam e Tommy, dove interpretava Tommy, interpreta qua Donald Trump. Un Donald Trump nemmeno trentenne, un Donald Trump che aveva tanto da imparare e che nella prima parte del film sembra essere anche buono, ambizioso, pronto a fare il bene per l'America. Ed invece poi risulterà una persona spietata, una persona che non ammetterà mai di sbagliare. Ci sono delle regole per sopravvivere in America, delle regole che Donald Trump imparerà da Roy Cohn. Ed ecco che questo film esce poco prima delle presidenziali e spero che chiunque lo veda possa riflettere, così almeno prima di votare, soprattutto in America. Ecco, rendetevi conto di chi potreste far vincere un'altra volta. La cosa curiosa, parlando di questo film fra le altre cose, è che, informandomi su internet, The Apprentice è stato cofinanziato dalla Kinematics LLC e c'è l'imprenditore Daniel Snyder, investitore. Ora, Snyder è stato sostenitore di tutte le campagne presidenziali di Donald Trump. Quando durante la post-produzione si è reso conto che il film metteva in cattiva luce, rifacendosi su fatti realmente accaduti o presunti tali Donald Trump, ha un attimo rivalutato ciò che aveva fatto fino ad allora e ha aperto un contenzioso, insomma, cercando di far tagliare anche delle scene, soprattutto una che non vi rivelo molto forte, ma che deriva da un'accusa che Ivana Trump aveva tirato in causa quando si stava separando da Donald nel 1989, che poi ha ritrattato nel 2015. Queste sono tutte informazioni che possiamo trovare in rete, però Ali Abasi si assume le proprie responsabilità, si schiera e ci racconta uno spaccato di vita reale, autentico. Mi è piaciuto a livello di messa in scena la prima parte del film quando Donald Trump è ancora ingenuo, quando ancora deve imparare tutto. La macchina da presa è molto frenetica, quindi segue i personaggi, li insegue, cerca di star dietro a questo Donald Trump come Donald Trump insegue l'avvocato Roy Cohn, sperando che possa prenderlo in considerazione, possa tenerlo in considerazione, possa prenderlo come suo allievo, possa quindi insegnargli i trucchi del mestiere. Poi invece diventa più posata, diventa molto più tranquilla la narrazione a livello di messa in scena dal momento in cui anche Trump, imparando questi trucchi del mestiere, riesce ad essere almeno di facciata, sempre sereno, sempre tranquillo, sempre con la risposta pronta, sempre in grado di risolvere ogni situazione anche quando rischia di indebitarsi, perché poi la sua megalomania verrà molto ben rappresentata nel secondo e nel terzo atto del film, che si conclude senza ancora farci vedere il suo avvento in politica, ma noi sappiamo che avverrà da lì a breve. Quindi secondo me Alia Basi dirige un film bellissimo, dove anche a livello fotografico abbiamo la fotografia di Casper Tuxen è realmente sgranata, che sembra un film degli anni 70, veramente, non sembra un film che si collochi in quegli anni ma allontanandosi nello stile, no no, assolutamente, sembra un film preso dagli anni 70 e mostrato oggi. Le interpretazioni sono state degne di nota, Sebastian Stan, ma anche Jeremy Strong fa un lavoro certosino, perché il personaggio di Roy Cohn avrà evoluto un film a parte su di lui, ma anche Maria Bacalova nei panni di Ivana Trump, Martin Donovan nei panni di Fred Trump. C'è un cast ben scelto, così come sono ottime le musiche in dei momenti inquietanti, che accompagnano delle situazioni spietate che vedranno protagonista il futuro presidente del Consiglio. Le musiche sono di David Holmes, di Brian Irvine e di Martin Dirkov, ma anche le scenografie e i costumi ci sono frammenti di servizi dell'epoca, quindi vediamo vere immagini degli anni 70, un reportage sugli anni 70 dell'epoca politica con Nixon che si dimette poi l'arrivo di Reagan, quindi siamo nell'epoca dell'edonismo, della ricerca del piacere e della bellezza, tutte cose che caratterizzano il carattere di Donald Trump che, imparando tutto quello che gli ha insegnato Roy Cohn, diventerà uno squalo in una società dove, tra le altre cose, pesce più grande mangia pesce più piccolo, dove non c'è rispetto per nessuno e dove si usano le persone per raggiungere i propri scopi personali. Quindi questo è un film politico, è un film di inchiesta, un film di denuncia che esce nel momento giusto, che farà discutere, che mi spiace sia stato sottovalutato, comunque che sia passato in sordina perché per me è un filmone fra i migliori dell'anno e sono stato contentissimo di vederlo, era rimasto ad un solo orario ma fortunatamente non me lo sono perso, non vedo l'ora di rivederlo e anche di sapere la vostra perché vale la pena, vale assolutamente la pena e adesso farò una parte spoiler per dirvi più nello specifico quel che penso al riguardo. Potreste ascoltarmi lo stesso perché magari la storia la conoscete, però io non vi voglio rivelare niente, quindi andiamo adesso con gli spoiler. Allora per quanto riguarda la parte spoiler il film mi ha convinto sin da subito, sia per la messa in scena, per questa fotografia sgranata, io credevo a quel che stavo vedendo e anche Sebastian Stan non è stato assolutamente macchiettistico, non è stato finto, è stato credibile nel suo ruolo così come Jeremy Strong quando Roy Cohn insegna le regole a Donald Trump sul non ammettere mai di aver perso, dire sempre di aver vinto anche quando tutte le cose vanno male, negare tutto, anche l'evidenza, quando insegna Donald Trump a stare al mondo e addirittura corrompe tutti le scene in tribunale dove corrompe, lui che ha i nastri registrati per manipolare, per proprio umiliare le persone e far fare a loro tutto quello che lui desidera pur di raggiungere i propri obiettivi, la scena in tribunale ma anche la scena, la prima causa che Donald Trump dovrà affrontare con suo padre perché non affittavano alle persone nere, alle persone di colore e quindi riescono a uscire dai guai sempre grazie alla corruzione e lì quello che all'inizio sembra un giovane ambizioso che vuol fare il bene per l'America diventerà una sanguisuga, del resto anche metaforicamente quel grasso che lui si farà togliere, quindi quel che lui si fa risucchiare dal corpo è un po' anche quel che lui risucchia dall'America, lui dall'America risucchia tutto quello che può risucchiare proprio per raggiungere i propri obiettivi e quindi sfrutta le persone, quindi succhia l'anima di queste persone, si fa vedere in un modo quando in realtà la sua faccia è completamente diversa, pensiamo anche con Roy Conn, Roy Conn che come scopre di avere l'AIDS lui lascerà per strada così come il suo compagno che poi morirà, ma quando ha bisogno di aiuti legali, lo richiama, lo invita in Florida, gli regala dei gioielli falsi, eppure fino alla fine Donald Trump continua ad essere così viscido, continua ad essere una persona manipolatrice, una persona cinica, spietata, fino alla morte di Roy Conn che come una sanguisuga risucchia, 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 risucchia e così farà con tutte le persone per raggiungere dei determinati obiettivi. Anche mi piace come viene raccontata la creazione della Trump Tower, del rapporto con Ivana Trump, arriviamoci, che all'inizio sembra un rapporto di forte intesa dove c'è amore, dove c'è sesso, dove c'è volontà di creare una famiglia, ma anche lì sono parole al vento di un attore che ha sempre recitato quando in realtà sappiamo quanto sia effettivamente spietato e senza scrupoli. Quando c'è la scena dello stupro che io non mi aspettavo, questa scena si rifà ad una dichiarazione della stessa Ivana Trump negli anni del divorzio, poi l'ha ritrattata nel 2015 però Ali Abasi si prende le sue responsabilità e la mostra, ed è una scena molto forte che ti fa proprio capire com'era Donald Trump, quanto anche poi Ivana Trump abbia finto, perché comunque non le conveniva scendere dalla vostra e quindi di fronte alle telecamere sono sempre felici e innamorati e poi invece dietro lui la tradisce continuamente, poi lui ha altri pensieri perché si accorge di star perdendo i capelli e quindi di essere un po' calvo, si accorge di essere troppo grasso e quindi va incontro alla liposuzione e tutte queste cose nel film vengono raccontate così bene che anche senza vedere, anche per una persona inesperta che magari non conosce la storia di Donald Trump, a questa persona basterebbe vedere un'ora e cinquanta di questo film, due ore, quanto dura, per capire che tipo di persona sia in realtà. Non c'è bisogno di parlare di tutte le cose fatte dopo, non c'è bisogno, perché già questo film inquadra bene la persona, che non possiamo negare essere abile, essere una persona sicuramente capace nel campo imprenditoriale, una persona che si è sempre saputa rialzare, ma scendendo a quali patti, a quali compromessi, quindi un film assolutamente incredibile per quel che mi riguarda, un film proprio registicamente forte, evocativo, ti riporta in quegli anni settanta con questa ripresa frenetica, ripeto, nella sua prima parte e poi invece tutto diventa appossato, nonostante Donald Trump continui una vita frenetica con le anfetamine, però deve dare sempre un'altra idea di fronte alla gente, non deve essere più insicuro e quindi la macchina da presa non trema più, non è più un qualcosa che sembra quasi dal reportage di un telegiornale dove si seguono le persone, cioè lui deve essere sicuro, lui deve essere calmo e quindi anche la macchina da presa si adagia e quindi questo è quello che penso di questo film, The Apprentice alle origini di Trump, The Apprentice che poi si rifà al programma proprio televisivo che aveva condotto Donald Trump, che poi in Italia è stato rifatto con Flavio Briatore, il film purtroppo ha incassato solamente poco più di 4 milioni di dollari, ma meritava decisamente di più, io vi chiedo di farmi sapere la vostra, parliamone, discutiamone, perché è un grande film e Ali Abasi nuovamente dimostra tutto il suo talento e tutta la sua bravura, vediamo adesso cosa accadrà con le presidenziali. Un caro saluto e alla prossima!